Buon pomeriggio, buonasera e bentornati a Darfo24, la rubrica consueta, ormai l'appuntamento dedicato al ritiro estivo dell'Iono del Garda, giornata speciale oggi perché c'è la Sponsor Cup, dietro di noi vedete i tanti amici dell'azienda e partner, ben oltre 40 questo pomeriggio a Darfo per partecipare a questa competizione che è un momento conviviale ovviamente per fare rete, sicuramente per fare business e anche poi per divertirsi in campo, spazio anche ai bambini sul secondo campo, ne approfittano oggi giornata particolare. Mattinate in cui gli sponsor dell'azienda hanno assistito all'allenamento della prima squadra, in cui Aimo Diana, Marco Bresciani, comunque altri membri dello staff hanno raccontato alcuni aspetti della seduta d'allenamento e tante curiosità che venivano chieste, venivano appunto snocciolate sia dalle aziende partner, dai referenti che dallo stesso mister, quindi grande disponibilità del nostro staff. pomeriggio dedicato al pranzo con la squadra, quindi un momento veramente unico ed esclusivo e poi divertimento in campo, questo perché, l'abbiamo detto, la squadra si è allenata al mattino, oggi meritato pomeriggio di riposo. Francesco, ciao, bentornato, ormai sei un volto noto di questo appuntamento, attenzione ai palloni, che non vorrei che ci arrivassero mai, questo è il bello anche di essere a bordo campo. Abbiamo detto, squadra oggi si allena solo al mattino, pomeriggio di relax e poi, giusto, se non sbaglio, cena tutti insieme e poi rientra nelle camere. Cosa hanno fatto questa mattina? Questa mattina la squadra, dopo la consueta fase di attivazione e prevenzione, si è dedicata ad un circuito anaerobico chiamato back-to-back. Tutto sotto la guida immagino di Esteban Anuit, il nuovo e preparato l'atletico argentino, portato da mister Eimo Diana. Bene, ragazzi che erano abbastanza stremati dopo questa prima settimana, è giusto così, il ritiro serve a quello per ricaricare, mettere nella gerla legna poi utile per tutto il proseguimento del campionato. Abbiamo detto, pomeriggio libero fino a questa sera e oggi pomeriggio spazio agli amici delle aziende partner. Adesso lunedì, cioè domani, ripartirà il calendario consueto degli appuntamenti con gli allenamenti. La squadra torna al lavoro, doppia sessione quotidiana, ma non solo. Non solo, esattamente, infatti mercoledì affronteremo la primavera dell'Allas Verona, mentre sabato sempre contro gli scaligeri ma con la prima squadra. A Rovereto 20 e 30, giusto, perfetto. Esatto, quindi seguite tutti gli aggiornamenti, non solo delle amichevoli ma di tutto questo ritiro estivo in Val Camonica, Darfo, Buario Terme, Darfio 24. Francesco, ci siamo, è tutto, siamo in chiusura, ci sentiamo domani, giusto? Esattamente. Seguite, faradalpiesolo.it e tutti i nostri canali social per tante curiosità e chicche ovviamente dal mondo verde e blu. E sempre forza, Leoni del Garda! Grazie.